Ecco le parole della vincitrice del Grande Fratello sulla sua amica Elena Prestes Continua il percorso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello e una delle protagoniste indiscusse di questi primi giorni nella casa più spiata d'Italia è la modella brasiliana Elena Prestes La ragazza si è trovata di mezzo nel triangolo amoroso con Lorenzo Spolverato e Shai la gatta ma sembra aver chiaramente deciso al momento di restare sola e viversi la sua avventura A parlare di Elena ci ha pensato l'ex vincitrice del Grande Fratello, Nikita Pelison che, al portale TAG24, ha dichiarato di essersi preoccupata all'inizio per la sua amica, ero estremamente preoccupata sia per la mia esperienza personale ma anche perché da quando si era lasciata stava molto male Dal canto mio spero che non riviva la frequentazione che può essere simile a quella che ha già vissuto fuori la casa Lei non è abituata all'amore sano come la maggior parte delle persone e la persona che le stava piacendo nella casa non la vedo minimamente interessata Su Lorenzo la giovane Nikita ha dichiarato. Vedo un ragazzo che è entrato nella casa per farsi vedere studiandosi bene il programma e noto che dall'inizio ha avuto interesse a creare una ship. Mi sembra una di quelle persone che fanno il gioco e non portano se stesse Spero che Elena si ricordi che è forte anche se a livello emotivo è sempre un casino quando arrivano i sentimenti. Mi auguro che si avvicini di più a Javier perché a livello umano lo sento molto sensibile